Sempre a Milano, grande successo per Nuvola Rosa, iniziativa rivolta alle giovani studentesse italiane e straniere, tesa a portare la parità di genere anche nella tecnologia. Nuvola Rosa è un progetto di Microsoft e di molti altri partner pubblici e privati per far comprendere alle ragazze quanto sia importante avere competenze digitali per poter entrare più velocemente nel mondo del lavoro e avere anche grandi opportunità di carriere. Questa del 2015 è la terza edizione che facciamo a Milano anche in occasione di Expo. Il mondo si sta digitalizzando e quindi servono competenze digitali per qualunque professione. Se i giovani e soprattutto le giovani ragazze comprenderanno questa opportunità, il futuro sarà più rosa. È davvero incoraggiante vedere tutte queste ragazze così motivate. Questa opportunità formativa permetterà loro di avere un ruolo di primo piano nel mondo del lavoro.